L'ordine dei giornalisti pugliesi esprime solidarietà completa ai colleghi della notiziaweb.it e di un'altra testata locale di Cirignola nel Boggiano che sono stati oggetto nei giorni e nelle settimane scorse di feroci attacchi ed insulti da parte del movimento politico La Ciconia che con il suo candidato Franco Metta è in avallottaggio per le amministrative del prossimo 14 giugno. In una nota diramata dall'ordine nel tardo pomeriggio di martedì esprime profonda preoccupazione e vicisa condanna per i numerosi episodi di intolleranza. che stridono con i principi costituzionali di libertà di espressione e di stampa. Dunque non è solo il movimento politico La Ciconia che è oggetto di questi attacchi inusitati ma anche altri. Alla luce di questi episodi lo stesso ordine dei giornalisti pugliesi si farà promotore nelle prossime settimane di una iniziativa pubblica dove saranno affrontati i problemi del lavoro giornalistico nella provincia di Boggia. La crisi ucraina e la questione medio orientale saranno al centro degli incontri che il presidente russo Vladimir Putin avrà oggi in Italia con moltissime personalità italiane. Si parte con il premier Renzi che lo accoglierà all'Expo 2015 in occasione della giornata che vede protagonista la Russia. Poi l'importante e indecisivo incontro con Papa Francesco in Vaticano e successivamente con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Non è escluso tramite il suo consigliere personale Uriskov che potrebbe incontrare nella serata odierna l'ex premier Silvio Berlusconi. Come sapete la Russia in questi giorni è al centro di fortissime tensioni con l'Unione Europea proprio a causa della situazione in Ucraina. Dopo un anno fra i cadetti il Bologna ritorna in Serie A. La formazione Velsinia guidata da Dele Rossi ha pareggiato martedì sera 1-1 contro il Pescara nella gara di ritorno della finale play-off disputata allo stadio Dall'Ara. Il vantaggio della formazione Velsinia è arrivato in torno al primo tempo grazie alla rete di Sansone. Nella ripresa per gli abruzzesi ha pareggiato Pasquato. Finale in attenzione per i padroni di casa per l'espulsione di Mbaie a mezz'ora dalla fine. Nonostante il forcing della formazione abruzzese, la formazione del Bologna dunque è la terza squadra a salire in Serie A. Un risultato prestigioso grazie ad una cordata statunitense-canadese che ha dato speranza ad un popolo che pensava di non tornare più nel calcio raccontare. Finale in attenzione per i padroni di casa per l'espulsione di Mbaie a mezz'ora dalla fine.